intelligenza artificiale ne sentiamo parlare ma potremmo avere un pochino di confusione nel merito ebbene ciao a tutti e a tutte dal vostro andrea cartotto proprio di questo argomento voglio parlarvi in una maniera semplice e in chiave didattica in questo nuovo video corso con cui inauguro una rubrica playlist qui sul mio canale dedicata proprio all'intelligenza artificiale per capirne la portata e l'utilizzo nella nostra vita per l'inclusione a scuola e non solo prendo una delle applicazioni web del momento vi parlo cioè di dal i due dalle due nulla da installare basta un qualsiasi browser programma di navigazione il sito di riferimento lo osserviamo in alto a sinistra guardate open ai che è il grande progetto che ospita anche dall i due punto com slash dal trattino e trattino due cosa fa dall i due pensate riceve scritta da noi una frase meglio se lunga e dettagliata l'algoritmo di intelligenza artificiale di open ai e di dall i due analizza questa frase scritta preferibilmente in lingua inglese ma anche in italiano e restituisce una immagine fedele a ciò che abbiamo scritto immagine realistica se abbiamo scritto qualcosa di realistico o onirica se abbiamo scritto qualcosa di molto più fantasioso penso ad un'attività ad un laboratorio con i bambini e ragazzi in cui dare forma ai loro sogni in cui favorire la visualizzazione e l'apprendimento per esempio nei casi di alunni che hanno il sostegno scolastiche che quindi necessitano di un docente di una figura che possa tramite la didattica digitale favorire ancora di più il loro apprendimento cognitivo no tramite le immagini i testi e non solo occorre registrarsi gratuitamente a dall i due tasto sign up in alto a destra vi consiglio un account istituzionale quindi l'account della scuola presso cui prestate servizio ma va bene anche un account personale io per testare dall i due nel tempo scelto proprio questa opzione clicco su log in poi dalla schermata che ora apparirà andrò a scegliere continue with google in basso e cliccherò tra quelli proposti l'account con cui mi sono registrato siamo in un tempo di festività il natale alle porte l'utilizzo è molto semplice di dall i due riga bianca stringa all'interno della quale scrivere la nostra frase più lunga più dettagliata meglio lavorerà l'intelligenza artificiale la web app è gratuita ma con un sistema di crediti guardiamo se clicco in alto a destra sulla icona corrispondente al mio account e vado sul 47 che vedete era 50 in origine scopriamo che c'è un sistema gratuito di crediti che io posso utilizzare ogni immagine generata è un credito per intenderci e noi possiamo in questo caso spendere questi crediti fino al 12 di gennaio io clicco ora sulla icona o se preferite sulla scritta dall i e vi mostro a che livelli tramite il progetto open ai e dall i due sia arrivata l'intelligenza artificiale e questo è solo l'inizio ma non dimentichiamo che la figura umana l'uomo sarà sempre imprescindibile perché anche la migliore intelligenza artificiale viene educata dall'uomo in fase di programmazione vado a scrivere un bambino osserva dalla sua finestra un albero di natale mentre scende la neve questa volta in lingua italiana potrei anche scrivere in lingua inglese clicco sul bottone generate e attendiamo alcuni istanti è possibile anche caricare immagini personali per poi modificarle editarle qui dentro però mi permetto di suggerirvelo fino a un certo punto per una questione di privacy che ancora oggetto di analisi e di confronto ebbene eccovi un risultato ancora più chiaro di quanto una spiegazione a parole verbale potrebbe restituire abbiamo un disegno una illustrazione generata completamente dall'intelligenza artificiale che mostra in concreto ciò che noi abbiamo scritto clicco sulla immagine per poter ingrandire una tra quelle diciamo proposte da dall'i2 vi mostro che abbiamo una serie di pulsanti in alto ma che in verità il pulsante che a noi in questo caso interessa è quello con la freccia rivolta verso il basso perché è il classico pulsante del download noi lo clicchiamo attendiamo qualche istante si apre una cartella quindi si apre la cartella di riferimento nel mio caso download ma possiamo scegliere la cartella preferita e in formato png abbiamo scaricato la nostra prima immagine completamente frutto della intelligenza artificiale per chi di voi con pazienza per la stima con cui mi segue ve ne ringrazio guarderà questo video fino in fondo aggiungo che è davvero possibile dare una forma visiva visuale ai sogni ai pensieri che i nostri bambini e ragazzi possano avere formulare possiamo creare opere che ci mostrino in concreto con l'intelligenza artificiale come sia una città danneggiata dalle bombe che cadono durante una guerra eccetera 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 così che l'immagine che a questo punto da forma le parole consenta di apprendere memorizzare o meglio capire un concetto o una idea vi ripeto questo è solo l'inizio ma quanto da lì ci consente già ora di fare è davvero come dire oggetto di stupore da parte nostra e spero e confido in questo mio video corso di avervi illustrato con massima semplicità e passo passo come poter effettuare questa esperienza tecnologico digitale ma anche analogica con da lì e con l'intelligenza artificiale di open ai a presto sarà una rubrica che ho intenzione di implementare gradualmente non mi resta che salutarvi e darvi sin d'ora appuntamento al prossimo video corso ciao a tutti e a tutte sempre dal vostro andrea cartotto ciao a tutti ciao